Una scritta dai toni ingiuriosi di matrice neofascista è stata trovata ieri mattina nei pressi dell'ingresso dell'edificio che ospita lo studio legale del sindaco Biffoni e Soci in via Pisano, dove si trovano anche altri studi professionali. Sconosciuti hanno deturpato il muro condominiale con la scritta Matteo Buffone vergognati, viva Dux. Immediatamente è stata informata la Digos per i rilevi del caso. La frase è stata poi cancellata. Una scritta analoga era stata fatta circa un mese fa sempre all'ingresso degli uffici. Io spero semplicemente chi l'ha fatta si vergogni. Almeno questo sì, niente di più. Le critiche si fanno, chi fa il mio mestiere è abituato, non solo chi fa il mio mestiere, c'è sempre modo e modo. La buona educazione secondo me può portare anche a critiche profonde, ma senza dover scadere nell'offesa. Peggio mi sento quando ci sono poi queste scritte neofasciste, sono robe... Sì, per carità di Dio, io non voglio dargli più valore di quello che ha, però sono oggettivamente fastidiose e da condannare, anche perché, lo voglio ribadire, vanno a coinvolgere persone che non c'entrano nulla, spazi che non c'entrano nulla con quella che l'attività politica noi svolgiamo. Il gesto è stato condannato da CGL Cisleville, dalla Funzione Pubblica CGL, da Confesercenti, dal PD e dall'assessore alla Presidenza della Toscana Vittorio Bugli, che hanno anche espresso solidarietà al primo cittadino pratese.